Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi di Abramo, voglio parlarvi della fede, voglio parlarvi delle opere che rendono compiuta la fede. E attraverso il passaggio dei passi delle scritture che riguardano Abramo, facciamo, volevo farvi determinate considerazioni, presentarvi le mie riflessioni a riguardo di queste cose. Cominciamo a leggere, andiamo, prendete le vostre Bibbie, leggiamo dal capitolo 15 di Abramo. di Genesi, dove l'Eterno fa un patto, fa una promessa con Abramo. E' al capitolo 15 di Genesi, dal primo versetto, 15.1. Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, «Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». E Abramo disse, «Signore Eterno, che mi darai tu, poiché io me ne vo senza figlioli, e chi possiederà la mia casa è Eliezer di Damasco?» E Abramo soggiunse, «Tu non mi hai dato progenie, ed ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede». Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo, «Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo». E lo menò fuori e gli disse, «Mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare». E gli disse, «Così sarà la tua progenie». Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia». Vedete, Abramo non aveva figlioli. Si lamentava, no, con il Signore. Si lamentava, «Che cosa avrò mai se uno non ha eredi? A che cosa mi serve tutto quello che io ho?» E Dio gli promise che gli avrebbe dato una progenie. Una progenie dalla quale gli ha detto anche che «Mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare». E gli disse, «Così sarà la tua progenie». I discendenti, i figlioli di Abramo praticamente. Ma lui cosa pensava? Cioè, come fanno ad essere così numerosi i miei figlioli se io non ce n'ho manco uno? Però non dubitò. Cioè, questa era la considerazione che poteva fare Abramo. Ma non dubitò. Quando Dio gli fece questa promessa di Abramo è scritto, «Egli credette all'Eterno», che gli contò questo come giustizia. Questo è, diciamo, la fede di Abramo viene presa in considerazione anche nel Nuovo Testamento. Viene presa in considerazione in contrapposizione alla salvezza per le opere della legge. Quindi si cita il credente Abramo perché il Dio lo giustificò, lo rese giusto per mezzo della fede che lui ha avuto, non per mezzo delle opere, eh, guardate bene, perché la salvezza, come quella di Abramo, ancora per noi oggi non è attraverso le opere, ma è attraverso, per mezzo della fede. Della fede in che cosa? Noi siamo stati rigenerati spiritualmente, siamo stati salvati, siamo stati giustificati, cioè resi giusti anche noi. Anche noi siamo diventati figlioli di Abramo, secondo la promessa di Dio. Siamo diventati figlioli di Abramo perché abbiamo la stessa fede di Abramo e per mezzo di questa fede noi siamo stati resi giusti, salvati. Vedete? Per mezzo della fede si viene giustificati. E questo viene detto, lo leggiamo, adesso lo leggiamo anche dalle parole scritte dall'Apostolo Paolo. In Romani, l'Apostolo Paolo scrive queste parole. in Romani, al capitolo 4, i primi versetti, l'Apostolo Paolo scrive queste parole a riguardo di Abramo e della sua fede. che diremo dunque che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Che, se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi. Ma, dinanzi a Dio, egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Abramo, credete a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Cioè, la giustizia, Abramo, la ottenne perché lui credette alle parole che Dio gli diede. Ebbe fede in quelle parole. Credette e fu reso giusto per questa fede. E così, badate bene, anche noi credenti, oggi, come Abramo siamo stati giustificati, ci è stato messo in conto di giustizia quella fede che abbiamo avuto in Dio quando siamo nati di nuovo. E la scrittura continua, sempre in Romani, e dice or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Qui cosa sta dimostrando l'Apostolo Paolo? Che la salvezza non si ottiene per mezzo delle opere, non si ottiene per mezzo, cioè la giustificazione la salvezza non si ottiene per mezzo delle opere della legge, non si ottiene per mezzo di nessuna opera perché sennò qualcuno potrebbe gloriarsi davanti a Dio ho compiuto quest'opera e tu mi devi per forza giustificare. No, non è così perché la giustificazione avviene solo per mezzo della fede come avvenne per Abramo e Dio gli fece una promessa lui credendo alla promessa che Dio gli ha fatto ha creduto non ha dubitato e ciò gli è stato messo in conto di giustizia cioè per questa sua fede egli è stato giustificato e Paolo usa appunto ciò che Dio ciò che è scritto nel libro della Genesi a riguardo di Abramo usa questi passaggi della Bibbia per per spiegare per spiegare che la salvezza appunto non si ottiene per mezzo delle opere ma si ottiene bensì solo per mezzo per mezzo della fede Abramo infatti Paolo dice non è stato giustificato per le opere ma è stato giustificato per la fede perché perché se uno vuole essere salvato per le opere dice Paolo gli è messa le opere gli vengono diciamo messe in conto di debito cioè se uno vuole essere messo vuole essere salvato per le opere allora bisogna mettere diciamo in una bilancia sia le opere buone che una compiuto ma dall'altra parte si devono contrapporre le opere malvagie se uno vuole essere salvato per le opere bisogna misurarle tutte quelle buone e quelle cattive quelle che non piacciono a Dio e quelle opere che non piacciono a Dio sono molto più numerose di quelle opere che un uomo può compiere capite sono molto più numerose quindi per opere non si può essere salvati è impossibile all'uomo ottenere una salvezza per opere e la legge lo dimostra perché è venuta la legge la legge dimostra è stata la guida che porta le persone ad accettare Gesù Cristo come salvatore perché perché la legge ti dimostra va bene se tu vuoi essere vuoi essere salvato per le opere devi fare tutte queste cose ma non devi sbagliare neppure su di un punto siccome è impossibile non trasgredire la legge e non sbagliare mai nessun punto ecco non è possibile per le opere essere salvati è assolutamente impossibile ma si viene salvati solamente per mezzo della fede veniamo siamo noi siamo stati giustificati il credente Abramo è stato giustificato e tutti saranno giustificati solo per mezzo della fede solo per mezzo della fede in Gesù Cristo oggi si viene giustificati non ci sono opere che possono essere compiute non ci sono opere che possono essere compiute per essere salvati perché l'uomo non è in grado di compiere le opere per essere salvato non è possibile è una cosa impossibile quindi bisogna bisogna si viene salvati solamente per mezzo della fede l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo ha parlato anche ai Galati di Abramo l'Apostolo Paolo ha parlato della salvezza per fede anche ai Galati qual'era la situazione dei Galati la situazione dei Galati era questa avevano ricevuto l'Evangelo gli era stato annunziato l'Evangelo ed erano stati salvati per mezzo della predicazione della fede cosa era successo erano arrivati taluni dopo gli Apostoli diciamo si erano allontanati dalla Galazia erano arrivati certuni che li avevano ingannati praticamente i Galati e gli avevano detto che dovevano essere che dovevano continuare a camminare osservando la legge capite gli avevano annunziato un altro Evangelo e quindi l'Apostolo Paolo cosa ha fatto ha fatto siccome i Galati erano stati ingannati Paolo scrive l'Epistola per spiegargli attenzione badate bene gli spiega con la lettera ai Galati gli spiega la salvezza per grazia la salvezza per mezzo della fede e non attraverso l'osservanza della legge o di altre opere capite quindi questo è lo scenario lo scenario in cui Paolo ha dovuto scrivere ai Galati per chiarire determinate situazioni in questi chiarimenti in questi chiarimenti in questo scritto in questa epistola che Paolo ha scritto ai Galati ha parlato anche di Abramo ha parlato delle scritture e ne ha parlato il punto che voglio prendere che voglio leggervi si trova in Galati al capitolo 3 leggiamo dal versetto 5 colui dunque che vi somministra lo spirito ed opera fra voi dei miracoli lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli di Abramo e la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede preannunziò ad Abramo questa buona novella in te saranno benedette tutte le genti tal che coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo vedete qui come ho detto prima Paolo deve dimostrare che non è attraverso le opere non è attraverso la fede e non è attraverso le opere della legge che si viene salvati e che si deve camminare ma si è stati giustificati per mezzo della fede e sempre per quella predicazione della fede bisogna camminare e prende ad esempio proprio Abramo perché Abramo credette a Dio cioè Dio gli fece una promessa Abramo credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia cioè fu giustificato per quella fede non per delle opere che Abramo ha fatto cos'altro dice di Abramo dice anche che in te saranno benedette tutte le genti chi sono le genti le genti sono i gentili siamo noi che non abbiamo una discendenza diciamo secondo la carne non abbiamo una discendenza giudaica ma siamo le altre genti ma in Abramo vedete in Abramo sono benedetti tutti coloro che hanno la fede come ce l'aveva Abramo anche i gentili e qui dice dice che coloro che hanno la fede quindi quella di Abramo sono figlioli di Abramo come l'ha avuta Abramo la stessa fede e così ce l'abbiamo noi i gentili anche gli ebrei che hanno la fede sono figlioli di Abramo oltre che magari discendente carnali però i veri figlioli di Abramo sono solamente quelli sono solamente quelli che hanno la fede come ce l'aveva Abramo siano essi giudei e siano gentili questi sono figlioli di Abramo e non quelli che si basano sulle opere della legge quindi la salvezza prima di passare adesso a breve passeremo a parlare della prova di Abramo perché la giustificazione quindi dobbiamo dobbiamo tenere conto che la giustificazione avviene per fede senza le opere però dobbiamo anche considerare il resto delle scritture cosa dicono le scritture anche riguardo a determinate opere che cosa ci insegnano e adesso andiamo a vedere andiamo a leggere dal libro della Genesi che Abramo credete a Dio ma poi ecco cosa cosa dice cosa gli chiede il Signore ad Abramo lo mise alla prova e leggiamo al capitolo 22 al capitolo 22 di Genesi sta scritto dal versetto 1 dopo queste cose avvenne che il Dio provò Abramo cosa vuol dire provare vuol dire creare determinate circostanze situazioni per vedere se Abramo amava il Dio con tutto il cuore per vedere se lui rimaneva fermo nei suoi sentimenti e nella sua fede in Dio quindi il Dio creò una situazione per Abramo difficilissima che adesso la leggiamo qui gli disse il Dio provò Abramo e gli disse Abramo ed egli rispose eccomi e Dio disse prendi ora il tuo figliolo intanto abbiamo visto faccio una premessa a questo versetto intanto abbiamo visto che Dio aveva promesso un figliolo ad Abramo il tempo passò passarono tanti anni quando Abramo aveva cent'anni anche Sara diciamo era avanti con l'età e non aveva più i suoi corsi ordinari e Dio un giorno quando aveva stabilito visitò Sara e Sara ebbe un figliolo come Dio gli aveva promesso Isacco gli nacque quindi dopo tanto tempo quando i corpi erano svigoriti quando diciamo secondo le leggi naturali Isacco non poteva più arrivare più nascere ad Abramo e a Sara ecco che Dio lo fa lo fa concepire e poi partorire quindi nacque Isacco poi passarono degli anni Isacco cresceva era diciamo parlava già quando arriva a un certo punto quindi dopo tanta attesa dopo tanta tanta attesa di quel figliolo guardate cosa gli chiede il Dio ad Abramo gli dice e Dio disse prendi ora il tuo figliolo il tuo unico colui che ami Isacco e vattene nel paese di Moriag e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò il Dio chiese ad Abramo di offrirgli in sacrificio il suo figliolo quello che gli aveva promesso di dargli e dalla quale sarebbero nati diciamo moltitudini avrebbe avuto moltitudini di figlioli di discendenti gli chiese di offrirlo cioè da una parte gliel'aveva dato e ora gli chiese di offrirlo lo mise alla prova così dice la scrittura creò questa circostanza per vedere cosa aveva nel suo cuore Abramo perché le prove mostrano quello che tu hai nel tuo cuore le prove difficili più sono dure e più si evidenzia quanto uno crede in Dio e si affida a Dio capite ci sono quelli che purtroppo parliamo di oggi perché Abramo non c'è detto Abramo diciamo ebbe fede e continua ad avere fede sino in fondo lo leggeremo ma oggi cosa avviene avviene che i credenti di molti credenti non tutti ma molti credenti quando arriva la prova cedono non la sopportano crollano capite crollano perché 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 non perseverano nella fede non e quando diventa diciamo pericoloso quando i sacrifici sono tanti quando quello che Dio ti chiede di fare è pesante mollano non non perseverano nella fede lasciano stare vanno per le loro vie non non superano la prova a differenza a differenza di Abramo Abramo gli è stato chiesto di offrire tutto quello che lui aveva di prezioso cioè suo figlio come dopo che gli fu chiesto di offrirlo Abramo cosa fece c'è scritto al versetto 3 e Abramo levattosi la mattina di buonora mise il basto al suo asino prese con sé due dei suoi servitori e Isacco suo figliolo spaccò delle legna per l'olocausto poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto poi saltiamo al versetto 9 e giunsero al luogo che Dio gli aveva detto e Abramo edificò quivi l'altare e vi accomodò le legna legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare sopra le legna e Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo ma l'angelo dell'eterno gli gridò dal cielo e disse Abramo Abramo e quegli rispose eccomi e l'angelo non metter la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male poiché ora so che tu temi il Dio già che non mi hai rifiutato il tuo figliolo l'unico tuo Abramo il Dio chiese ad Abramo di offrirgli il suo unico figliolo e Abramo non esitò non esitò ad offrirlo andò a offrirglielo e cosa vide il Dio in questo comportamento in questa in questa opera compiuta e sì questa è un'opera che cosa manifesta quest'opera attenzione partiamo dal presupposto che Abramo era già stato giustificato per fede Abramo fu già giustificato quando gli fu fatta la promessa fu giustificato per fede fu reso giusto per mezzo della fede che aveva avuto nelle parole che Dio la promessa di Dio che gli aveva fatto quindi qui che cosa era successo è successo qualche cosa con questa offerta che lui ha fatto con quest'opera che ha compiuto gli è stato chiesto praticamente di dare tutto all'Eterno e lui non lo ha rifiutato ha dato tutto quello che aveva aveva alzato già il coltello per scannare il suo figliolo quindi veramente lo voleva non stava facendo finta lo voleva veramente sacrificare era pronto a sacrificare perché perché aveva cieca fiducia in Dio nessuno avrebbe potuto smuoverlo quindi da una parte vediamo che ebbe fede e gli fu messo in conto di giustizia dall'altra vediamo che le opere manifestavano che questa fede era ancora esistente ferma decisa nell'Eterno che non era venuta meno per nessuna ragione e cosa gli disse Dio cosa vide Dio in Abramo gli disse ora so che tu temi Dio rispettare Dio temere Dio osservare i suoi comandamenti non venire meno quando il Signore ci manda una prova è importante valutare riflettere su queste cose perché oggi la Chiesa tutta la Chiesa è messa sotto la prova è provata Satana ha chiesto di vagliare la sua Chiesa come è scritto nei Vangeli Gesù di Pietro disse io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno quindi è vero che da una parte la Chiesa viene vagliata messa a dura prova ma è anche vero che abbiamo il Signore nostro Gesù Cristo che sta pregando per noi che sta intercedendo per noi affinché la nostra fede non venga meno quindi noi dobbiamo badare a queste cose dobbiamo badare affinché la nostra fede non venga meno qualsiasi prova ci arrivi addosso quindi vedete come anche le opere l'importanza delle opere ma che cosa dice la scrittura perché senza vacillare Abramo è andato ad offrire il suo figliolo Isacco che cosa pensava Abramo la scrittura ce lo insegna la scrittura ci fa sapere anche questo e ci fa sapere qui dobbiamo andare a leggere in ebrei al capitolo 11 dove ci sono gli esempi di fede vari esempi di fede viene preso anche questo di Abramo capitolo 11 di ebrei dal versetto 17 leggiamo per fede Abramo quando fu provato offerse Isacco ed egli che aveva ricevuto ricevuto le promesse offerse il suo unigenito egli a cui era stato detto è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare dai morti onde che lo riebbe per una specie di risurrezione cioè la certezza di Abramo la fede in Dio era questa ce l'ha spiegato lo scrittore agli ebrei Abramo aveva una tal fiducia in Dio che avrebbe adempiuto alle sue promesse che credeva che dopo che lui avesse sacrificato il suo figliolo il Dio lo avrebbe risuscitato dai morti quindi vi rendete conto quanto era grande la fede che aveva Abramo sia all'inizio quando gli fu messa in conto di giustizia ma anche dopo questa fede rimase lui credete andò senza battere ciglio a sacrificare il suo unico figliolo aveva la cosa più preziosa che lui aveva andò a sacrificarlo senza battere ciglio perché perché lui aveva una tal fiducia in Dio che pensava era sicuro sicuro ma se io lo uccido come fa ad arrivare come faccio ad avere una discendenza numerosa se ho bisogno che Isacco sia vivo e io lo devo uccidere dopo che lo uccido il Dio lo farà tornare in vita ecco una specie di risurrezione lo riebbe come una specie di risurrezione perché lui era veramente deciso a togliergli la vita cioè non è che alzò il suo coltello fingendo no lo stava per scannare perché la sua fiducia era tale nel Signore che era certo che Dio visto che io lo devo uccidere come lui mi ha chiesto lo dovrà far risuscitare perché è da lui che verranno che verrà la moltitudine delle cioè i molti discendenti gli ha promesso molti discendenti ad Abramo attraverso Isacco non attraverso altri e se lui lo avrebbe lo avesse ucciso come come potevano come se se fosse rimasto l'avesse ucciso e fosse rimasto morto la parola di Dio non si sarebbe potuta adempiere capite c'era un impedimento quindi Abramo non pensava e non sapeva che sarebbe stato fermato prima di ucciderlo di sacrificarlo aveva però pensato che Dio lo avrebbe risuscitato dai morti vedete quanta fede aveva fede nella risurrezione che Dio poteva aveva il potere di risuscitare i morti la fede di Abramo e noi oggi dobbiamo essere figlioli di Abramo sia per la fede che riguarda che ciò gli fu messo in conto di giustizia quindi siamo stati giustificati per mezzo della fede come lo fu Abramo però dobbiamo anche avere l'altra parte dobbiamo anche diciamo rendere compiuta la fede di Abramo con le opere come ha fatto Abramo anche noi dobbiamo rendere compiuta la nostra fede cioè dobbiamo portarla a compimento e questo discorso questo discorso ce lo spiega Giacomo adesso andiamo a leggere leggiamo le parole di Giacomo che anche Giacomo fa riferimento ad Abramo oggi stiamo seguendo il filo che riguarda Abramo il passaggio di Abramo in vari passaggi delle scritture al capitolo 2 di Giacomo dal versetto 14 leggiamo che Giova fratelli miei se uno dice di aver fede ma non ha opere può la fede salvarlo se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e un di voi dice loro andatevene in pace scaldatevi e sattollatevi ma non date loro le cose necessarie al corpo che Giova così è della fede se non ha opere è per se stessa morta anzi uno piuttosto dirà tu hai la fede ed io ho le opere mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede tu credi che v'è un sol Dio e fai bene anche i demoni lo credono e tremano ma vuoi tu o uomo vano conoscere che la fede senza le opere non ha valore Abramo nostro padre non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo Isacco sull'altare tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che le opere che per le opere la sua fede fu resa compiuta e così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credete a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto sì questi passaggi presi da soli possono mettere in difficoltà molti perché apparentemente potrebbe sembrare che la salvezza si ottiene per mezzo delle opere vengono presi quelli che vogliono giustificare la salvezza per mezzo delle opere prendono questi passaggi ma questi passaggi hanno un altro valore hanno un altro senso innanzitutto queste scritture sono dirette ai credenti ai credenti che sono già nati di nuovo hanno già avuto fede e sono già rigenerati spiritualmente infatti al capitolo 1 versetto 18 e Giacomo lo sa l'ha detto prima capitolo 1 versetto 18 di Giacomo sta scritto egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature quindi mediante la parola siamo stati generati per mezzo per mezzo della fede quindi qui dice quindi Giacomo all'inizio del passaggio che ho letto c'è scritto che giova fratelli mie quindi queste parole le sta rivolgendo non a increduli che devono essere salvati per mezzo della fede nell'Evangelo e qui apro una parentesi com'è che si viene salvati si viene salvati per mezzo della fede nell'Evangelo qual è l'Evangelo che salva la fede in che cosa perché voglio fare questa distinzione perché abbiamo letto in Giacomo che c'è scritto che anche i demoni credono che Dio esiste ci credono lo sanno che esiste è scritto tu credi che v'è un sol Dio e fai bene anche i demoni lo credono e tremano questo è importante perché oggi sono molti quelli che dicono credo in Dio i cattolici dicono che credono in Dio i musulmani dicono che credono in Dio i testimoni di Giava dicono che credono in Dio i massoni pure dicono che credono nel Gadu nel loro Dio Lucifero quindi non è non è diciamo sufficiente oggi dire che sono salvato perché credo in Dio oppure dire io sono un credente perché credo in Dio non è sufficiente ciò che bisogna credere è questo bisogna credere nell'Evangelo cioè bisogna credere che Gesù Cristo che Gesù è il Cristo di Dio e che è morto per i nostri peccati secondo le scritture ed è risuscitato dai morti sempre secondo le scritture e si è manifestato ai suoi discepoli quindi oggi chi è credente chi dice di aver creduto deve credere nell'Evangelo non è sufficiente dire che crede in un Dio in Dio non è sufficiente perché uno può dire io credo in Dio ma sta pensando a un altro Dio capite non a quello delle Sacre Scritture non crede che Gesù è il Cristo dice io credo in Dio però come possono dire anche gli ebrei ad esempio credono in Dio credono nell'Eterno ma non credono che Gesù è il Cristo non credono che Gesù è l'agnello di Dio che è stato sacrificato per i nostri peccati ed il terzo giorno è risuscitato quindi credono in Dio ma non credono nell'Evangelo e non sono per questo salvati capite quindi non è sufficiente dire che uno crede in Dio ma bisogna vedere se questo crede che Gesù è il Cristo e se crede nell'Evangelo capite quindi quindi quando diciamo che si crede in Dio oggi diciamo questo ho voluto fare questa ho voluto marcare questo 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 tipo di fede perché purtroppo oggi sono molti quelli che dicono che hanno fede in Dio ma non è quella fede salvifica di cui parlano le scritture è una loro fede particolare e per questo anche che vi ho voluto prendere determinati passaggi anche per farvi capire poi che alla fede la vera fede in Dio quella che è scritta nella parola devono comunque poi seguire delle opere e sì non può rimanere fine a se stessa io credo in Dio ma e basta no no abbiamo citato abbiamo visto come la fede di Abramo che c'era la fede è stata messa alla prova ed è stata resa compiuta qui ce lo dice Giacomo ci dice Giacomo che la fede di Abramo è stata messa alla prova cioè ha compiuto le opere ed è stata resa compiuta allora Abramo nostro padre non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo Isacco sull'altare sì perché cosa avvenne al momento cosa avvenne nel momento in cui Abramo sacrificava il suo figliolo sull'altare avvenne che quella fede che lui aveva dichiarato la parola aveva dichiarato che Abramo aveva fede ed era e gli era stata messa in conto di giustizia ebbene quando Abramo ha sacrificato stava sacrificando il suo figliolo noi quella fede l'abbiamo vista tutta è stata resa compiuta era visibile a tutti capite si è adempiuta cioè la fede è stata portata a compimento attraverso quell'opera che ha compiuto Abramo quindi non solo vedete è importante che ci sia la fede è importante che ci sia la fede perché sennò non viene giustificato ma è anche importante quando viene la prova quando diciamo ci sono determinate circostanze questa fede che c'è deve essere resa compiuta deve essere realizzata deve essere diciamo portata a termine a compimento capite questo è importante che non solo deve esserci la fede ma poi deve anche manifestarsi come si è manifestata quella di Abramo deve essere resa compiuta compiuta vuol dire appunto questo che deve essere portata alla realizzazione deve perfezionarsi capite e questo non è valido solamente non è valido solamente per Abramo di Abramo è scritto è stato citato per nostro ammaestramento quindi la fede di Abramo noi la dobbiamo studiare attentamente ma dobbiamo studiarne anche come questa fede è stata adempiuta è stata resa compiuta è stata portata a compimento ed è stata realizzata compiendo l'opera che Abramo ha compiuto così pure a tutti i credenti oggi viene offerta viene offerta viene diciamo vengono messi alla prova per vedere per 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 vedere se la loro fede viene resa compiuta quindi noi dobbiamo imitare dobbiamo imitare il nostro il credente Abramo non solo credendo diciamo non solo con la semplice fede interiore in Dio ma anche con le opere perché come dice Giacomo attraverso le opere noi manifestiamo la fede senza che ci siano le opere quindi se non si rende compiuta se non si realizza questa fede noi diciamo che la fede c'è si deve realizzare se c'è si deve vedere esteriormente si deve manifestare deve arrivare a compimento deve essere compiuta se no questa fede Giacomo dice non ha valore una fede che non è resa compiuta una fede che non giunge a compimento che non viene perfezionata che non giunge al termine ad esempio una fede che non giunge sino al termine della nostra vita capite non ha valore non ha valore quindi ci viene chiesto non solo vedete di avere fede ci viene chiesto anche di perseverare nella fede sino alla fine di portarla a compimento di perfezionarla di renderla compiuta si deve vedere quando il Dio ci metterà la prova ci mette la prova ci sta mettendo la prova questa fede si deve vedere una totale fiducia che Dio opera a favore della sua chiesa del suo popolo di ogni singolo credente e qui è importante perché fino a che si parla di fede tutti sono d'accordo gli piace però quando si tratta di aggiungere alla fede di renderla compiuta di aggiungere le opere perché se no la fede è morta senza le opere e lì allora diminuisce il numero di quelli che sono disposti a sacrificare tutto quello che hanno per manifestare la loro fede diminuisce grandemente il numero molti dicono a molti è stato messo in conto di giustizia e sono stati anche salvati ma pochi sono quelli che dopo arrivano fino alla fine rimanendo fermi nella fede rendendola compiuta realizzandola arrivando sino alla fine portandola a termine sia anche quello di portarla sino al termine fa sempre parte del significato di compiuta cioè la fede è stata resa compiuta quella di Abramo è giunta sino al termine è rimasta non è caduta non è scomparsa non è finita non è naufragata era una vera fede quella di Abramo era una vera fede non una fede finta solo a chiacchiere ma era una fede a cui aveva aggiunto esisteva la fede e si è vista è stata resa compiuta realizzata si è vista si è manifestata di questo di questo ne parla anche fa riferimento Gesù ne parla Gesù direttamente e ne parla a Giovanni lo dice a Giovanni quando gli dice di scrivere alle sette chiese in Apocalisse quindi al capitolo 3 di Apocalisse leggiamo le parole di Gesù leggiamo dal versetto 1 capitolo 3 di Apocalisse dal versetto 1 leggiamo e all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle io conosco le tue opere tu hai nome di vivere e sei morto si vigilante rafferma il resto che sta per morire poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio vedete ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito e serbalo e ravvediti queste sono parole di Gesù rivolte al ministro che conduceva al pastore al colui che era incaricato il messaggero di Dio che era incaricato di curare la comunità la chiesa di Sardi e gli ha detto io conosco le tue opere Gesù gli ha detto tu hai nome di vivere e sei morto attenzione era un suo ministro era un ministro di Dio questo aveva nome di vivere invece era morto per quale motivo lo fa capire dice non ho trovato le tue non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio quindi abbiamo visto allora tenendo sempre conto che non sono le opere che salvano ma le opere qui ci servono sono utili perché ci fanno vedere che la fede attraverso le opere viene resa compiuta cioè viene portata a compimento viene realizzata ora questo compimento in questo diciamo nell'angelo della chiesa di Sardi nel messaggero nel ministro della chiesa di Sardi che era costituito era stato posto lì da Gesù queste opere non avevano reso compiuta la fede di quest'uomo e Gesù lo riprende lo riprende gli dice tu sei morto hai nome di vivere ma sei morto perché perché non c'erano in lui quelle opere che rendevano compiuta la sua fede qui sto cercando di distinguere il fatto che è già presente la salvezza è già venuta in quest'uomo è stato salvato per mezzo della fede in Cristo Gesù però questa fede è attraverso le opere che potevano essere anche delle prove durissime ma non doveva lo stesso venire meno questa fede alla fede dovevano seguire delle opere doveva superare le prove dovevano seguire delle opere che rendevano compiuta la dovevano portare a perfezionarsi questa fede quindi vedete quindi diceva bene Giacomo che bisogna bisogna considerare la fede certo ma anche le opere non si possono tralasciare le opere perché le opere manifestano la fede che uno ha cioè come uno vive manifesta sia fede oppure no quindi non si può tralasciare non si può diciamo avere considerazioni solo della fede e non delle opere capite? perché purtroppo ci sono ambienti evangelici ci sono ambienti evangelici che parlano solo della fede ma non parlano delle opere cosa succede? sì possono anche aver creduto ma dopo può accadere che la loro fede non viene resa compiuta perché non sono attrezzati non sono diciamo forti abbastanza non sono stati ammaestrati per diciamo rendere compiuta la loro fede che viene resa compiuta superando delle prove mantenendosi fermi nella fede arrivando sino alla fine senza naufragare quanto alla fede avere fede sino alla fine chi avrà creduto diciamo chi avrà perseverato nella fede sino alla fine sarà salvato vedete è così che la fede viene resa compiuta viene portata a compimento viene si realizza diciamo nella sua totalità ma purtroppo se non viene insegnato se come succede quello che succede alla chiesa di Sardi dice qui rafferma il resto che sta per morire ce ne allora c'erano alcuni che erano già morti spiritualmente ma c'è il resto perché se dice il resto non sta dicendo tutti capite c'era un resto nella chiesa di Sardi che stava morendo ma ancora non erano morti e lui lo esorta innanzitutto a ravvedersi ad essere vigilante a riprendersi insomma perché gli dà questa possibilità aveva nome di vivere ma era morto gli dà la possibilità di riprendersi di compiere quello che doveva compiere per il suo doveva adempiere all'incarico che aveva ricevuto dal Signore in questo caso gli dice a quel resto che ancora non era morto rafferma cioè li devi rendere stabili forti li devi aggiustare devi farli girare e far camminare nella direzione giusta questo vuol dire rafferma fortificali falli camminare verso nella direzione giusta però per far camminare gli altri nella direzione giusta dobbiamo camminare anche noi nella direzione giusta se no è veramente un'impresa molto difficile impossibile quindi vedete come è e a lui gli dice ripassando ancora gli dice appunto che le sue opere dalle opere che Gesù perché Gesù dice io conosco le tue opere le conosco Gesù conosce anche le nostre opere Gesù lo sa se la nostra fede è resa compiuta fino ad oggi se non lo è dobbiamo renderla compiuta dobbiamo aggiustare tutto quello che c'è da aggiustare nella nostra vita e bisogna camminare nella direzione che piace al Signore non nella direzione che piace a noi noi dobbiamo camminare dove non ci piace praticamente dove piace al Signore perché badate bene chi non è a posto davanti al Signore chi non rende compiuta la propria fede quindi chi non aggiunge alla fede col quale è stato giustificato non aggiunge tutte quelle opere che Dio gli mette davanti che siano prove o altre opere da compiere quelle che gli mette davanti le dobbiamo praticare altrimenti anche a noi il Signore ci dirà quello che ha detto a questi credenti della Chiesa di Sardi che le nostre opere non sono compiute al cospetto di Dio se noi non aggiungiamo alla fede come dice Giacomo anche le opere le dobbiamo aggiungere ma non siamo salvati per opere no non è che siamo stati salvati per fede e vogliamo arrivare alla fine essere salvati per le opere no però non si può vivere nella fede senza le opere non si può neanche questo saremo salvati per fede anche alla fine però le opere rendono compiuta quella fede cioè manifestano che questa fede c'è quindi noi dobbiamo essere quindi figlioli di Abramo perché Dio gli mise gli mise credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia è vero che dobbiamo essere figlioli siamo figlioli di Abramo chi ha creduto ed è nato di nuovo e ha creduto nell'Evangelo adesso ha la fede di Abramo certo è giusto bisogna avere questa fede di Abramo per essere salvati per essere figlioli di Abramo però badate bene noi tutti che siamo figlioli di Abramo dobbiamo assomigliargli dobbiamo imitarlo non solo per quanto riguarda questo tipo di fede che abbiamo creduto alle promesse di Dio ma dobbiamo anche poi fare come ha fatto Abramo cioè dobbiamo comportarci dobbiamo agire in modo che questa fede che noi abbiamo sia resa compiuta affinché Dio veda che veramente lo temiamo e lo amiamo con tutto il nostro cuore capite dobbiamo dobbiamo con ciò aggiungere considerare tenere conto anche delle opere che sono da compiere per rendere compiuta la nostra fede e questo era oggi fratelli e sorelle nel Signore il messaggio che volevo portarvi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amin